Lei è una piccola e desuberante bambina sempre pronta a nuove avventure durante le quali si caccia spesso nei guai. Lui, il suo grande amico del cuore che si lascia trascinare dalla compagna di giochi anche se spesso preferirebbe la tranquillità della vita domestica. Sono Mascia e Orso i protagonisti di una fortunata serie tv per bambini russa. Abituati a vederli in tv i più piccoli accompagnati dalle loro famiglie hanno potuto incontrarli nella galleria del centro commerciale Portanova di Gualdo Tadino. I due bufazzi hanno intrattenuto i tanti visitatori del centro permettendo loro di fare fotografie e scambiare piccoli gesti d'affetto. Siamo qui al centro commerciale Portanova di Gualdo Tadino con la Superstore per l'evento di Mascia e Orso. Un evento che Conad ha un accordo con Publi Event per realizzare questo tipo di eventi. Da venne che ne bralai avrò chi so se... Bambini e famiglie avranno ancora la possibilità di incontrare i due simpatici personaggi perché gli appuntamenti con Mascia e Orso proseguono nei centri commerciali di PAC 2000 a Conad. Sabato 12 saremo a Città di Castello e poi ci saranno altre date per gli eventi di Mascia e Orso nei centri commerciali seguiti da Conad e da PAC 2000. Con questo ringrazio tutti quanti per la presenza e ci vediamo sabato 12 a Città di Castello. Grazie a tutti!